Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11 restano rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e il Vivo con la 1 verso Firenze, regolare il traffico altrove. Ci spostiamo sulla Siena Vettolle per un furgone ribaltato tra Castelnuovo e Casetta in direzione nord che ingombra la strada e consente il passaggio di una sola auto, per volta si registrano forti rallentamenti sul tratto. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Siamo alla FIPILI per lavori code di un chilometro tra Montelupo e Ginestra verso Firenze e in carreggiata opposta tra la Strassigna e Montelupo e ricordiamo il percorso alternativo sulla SP12 della Val di Pesa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!